Sabato di vigilia per l'attesissimo derby di Lega Pro tra l'Aquila e Teramo. Dopo i proclami si passa dunque al confronto sul campo, ai fatti. E dire che è stata una settimana contraddistinta da toni bassi, qualche polemica su spese sostenute e budget investiti c'è stata nelle settimane scorse, ma non se ne è riparlato. Meglio così, semmai ciò che non è andato è stata la gestione della vendita dei biglietti del settore ospiti. Nessuna responsabilità delle due società. Qualcosa però non è andato sui piani alti con il comitato di analisi per le manifestazioni sportive che mercoledì pomeriggio ha sospeso la vendita avviata dopo la riunione del GOS di inizio settimana. Vendita riattivata solo ieri dopo l'ok del CASMS e una seconda riunione del GOS. Un pastrocchio che in parte si è cercato di compensare posticipando l'orario di chiusura della prevendita, non più alle 19 di oggi, bensì alle 23. Unico punto adibito Alma Sport, Teramo Point. Già quattro i pullman organizzati dal centro a Prutino. Mobilitazione anche nel capoluogo con il supporter's trust L'Aquila Me che riproporrà il servizio navetta per agevolare l'afflusso di tifosi, in particolare quelli residenti nelle frazioni o negli insediamenti del progetto case. L'attesa per la gara è forte non tanto per ragioni di campanile, che comunque ci sono, ma soprattutto per i risvolti di classifica con L'Aquila che ha praticamente l'obbligo di vincere per rosicchiare punti alle dirette rivali di vertice anche al netto dei due recuperi. Ed il Teramo non disposto a fare alcun passo indietro per mantenere la vetta in coabitazione con l'Ascoli. Vivarini dovrebbe mantenere intatto l'undici vittorioso col Sant'Arcangelo. Unica novità, il rientro di Scipioni al posto di Brugaletta. Novità più incisive sono attese sul fronte rosso-blu. Uno tra Virdis e Pozzeborn potrebbe lasciare il campo al bomber antiteramo San Domenico. Scrulli candidato al posto dello squalificato Pedrelli. Occhio poi al recuperato Dioric, arma tattica qualora Zavettieri cerchi un assetto più robusto nella zona mediana, magari a discapito di un attaccante. Sul fronte dei precedenti il Teramo ha in vantaggio 13 vittorie a 10, 7 pareggi, ma negli ultimi due anni trend invertito con 5 vittorie aquilane contro una Teramana. L'unico sorriso bianco-rosso coincide con l'unica presenza del derby per il capitano bianco-rosso Bucchi che domani ci sarà anche se partendo dalla panchina. Dirigerà l'incontro Marco Serra di Torino, con lui solo vittorie per le due squadre, 3 su 3 per l'Aquila, 1 su 1 per il Teramo.